Per tanti che come lei sono da mesi in prima linea nella lotta al covid, la possibilità di sottoporsi subito al vaccino ha rappresentato una sorta di liberazione, emozione di cui Maria Lombardi, caposala del reparto di medicina d'urgenza dell'area covid del Ruggi, non ha fatto mistero, è stata lei la prima operatrice sanitaria a sottoporsi al vaccino nella struttura ospedaliera di Salerno. Consiglio vivamente tutti di vaccinarsi perché è l'unica possibilità che abbiamo in questo momento di poter riprenderci la nostra vita per il futuro perché vivere così è quasi un non vivere, con la vaccinazione speriamo di raggiungere quello che ci aspettiamo. È stato un periodo piuttosto particolare, un periodo strano, un periodo dove tu hai dovuto mettere oltre alla mente anche la forza, il coraggio, la volontà di andare avanti quando le cose si mettevano proprio male, quando gli altri camminavano per strada e senza mascherina e noi invece lottavamo. Il virus tra l'altro in queste ore sta continuando a penetrare negli ospedali proprio a Ruggi. Nelle ultime ore si sono registrati altri sei contagi tra pazienti e sanitari nel reparto di cardiologia, ma anche all'Umberto I di Nocere Inferiore sono stati riscontrati nuovi positivi in ginecologia e nefrologia. Oltre ai contagi purtroppo si registrano anche nuovi decessi. Baronissi piange la scomparsa di due anziani di 90 ed 80 anni che erano risultati positivi al Covid. Lutto anche nelle comunità di Altavilla Silentina, Pagani e Castel San Lorenzo.